Stef è una bellissima sorpresa per te Dimmi Fere dimmi Allora mentre tu non c'eri Ok Ho tirato in lungo e in largo tutto questo mondo E guarda cosa ho trovato Ok Guarda Cos'è Fere? È un nuovo blocco di legna Ma non è uguale all'altro? No guardalo Allora Allora mi stai già facendo arrabbiare Guarda ti faccio vedere anche le foglie Ok Le vedi? Sono molto diverse Le foglie sono molto diverse Il tronco devo essere sincero Mi sembra uguale all'altro No allora guarda Ok Vieni un attimo che tu sei uno scarsone Non sai riconoscere i colori Sembra uguale Fere Te lo giuro Ah ok No vedi che è più scuro Adesso ci arriva il tuo cervello Grazie Grazie Brava Fere Lo possiamo sfruttare questa cosa Sì pensavo di piantarlo Di piantarlo nella nostra base Così abbiamo un altro Dei nuovi alberelli Sì 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 Mi piace Mi piace E ragazzi come va Io sono Fere Niki E io sono Stef Che sono G.M.Colony Survival E siamo tornati qui Su questa serie Che piace a tutti i consolini Allora io devo dire un po' di cose Ok Nell'ultimo episodio Siamo arrivati a 7500 like Cioè noi avevamo detto Che 5000 Era il record E loro ce ne hanno messo 7500 Era un dispetto Fere Perché hanno detto Allora Esatto Su Colony Survival E siamo stati a 3000 In diretta 3000 3003 cara Se vuoi dire Le cose giuste Di le giuste giuste Record assoluto Di consolini live Quindi siamo felicissimi E non possiamo che Tu adesso magari sei felice Ah i consolini ci amano Fere No Amano gli schiavetti Fere Non amano a noi Amano gli schiavetti Che vivono in questo villaggio Noi siamo soltanto di contorno Quindi Non essere troppo felice Di quei likes E di quelle visualizzazioni Perché sono per gli schiavetti Non sono per noi Noi siamo carini Ma non abbastanza Allora In live ci avete chiesto In tanti 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 Di fare le torri Per gli arcieri Quindi Abbiamo deciso Di provare a fare In ogni angolo delle mura Una torre Dove andrà un arciere Esatto E di vedere Se risulterà utile E bello esteticamente L'obiettivo sono due Quindi che l'arciere Riesce a davvero A sparare dei zombie E che è anche carino esteticamente Perché vogliamo rendere Il nostro impero Sempre più bello Quindi Hai pensato a come poter fare una torre Dato che deve essere carino esteticamente Ci pensa Fere Ma no Allora io non ci ho pensato bene Ciao Fere Bisogna Vado un attimo a letto Fere Devo dire Che bisogna trovare un modo Per far salire l'arciere No Allora quello lo so fare io Tu devi solo pensare Alla forma e all'estetica Io voglio fare la scala esterna Noi facciamo Un po' di schiavetti Extra Quindi ne proviamo a mettere tre Vediamo che lavori Decidono di fare Perché ci sono un po' di spazio ovunque Sì Lui mi sa che stanno andando a fare Una cosa importantissima Che speravo Che andasse Che qualcuno andasse a fare Ovvero la fornace Praticamente Non so cosa ci sta chiedendo Però praticamente Noi abbiamo bisogno delle frecce Per fare le frecce Abbiamo bisogno Di creare I lingotti di ferro Abbiamo bisogno Di uno schiavetto Che lavora Tutto il tempo Alla fornace Per creare Questi lingotti di ferro Per creare le frecce Di conseguenza Dobbiamo capire Un pochettino Come fare Perché se vedete Sta cambiando sempre l'icona E dice Come se non ha Quei materiali Quindi noi proviamo A metterli Questo Fere Che succede Ho scoperto come si fa Il nuovo blocco Ma davvero I pricks Sì Li fanno Quella fornace Io te l'ho detto Che era la fornace Infatti Servono 3 di clay Quindi di Come si chiama Dice che ha bisogno Degli iron ore Quindi se io trovo Gli iron ore Teoricamente Lui Inizia A crearci I lingotti Con cui possiamo Iniziare A fare le frecce Perché Iniziamo Ad essere messi Davvero male Io ho 18 frecce Fere abbiamo un problema Tu quante frecce hai? Ah io ne ho 20 Scusa Ah beh Pensavo di averle molte Fere Siamo messi benissimo Usa tutte le tue bellissime 20 frecce Insieme allo schiavetto guardia E difendi per questa notte Nel mentre io vado in miniera E cerco di procurarci un po' di ferro Per crearne altre Perché altrimenti qui iniziamo a rischiare pesantemente Va bene? Ok Un salini Quella è la barra del ferro Ce l'ho fatta Allora sono andato in miniera E ne ho preso circa 60 Ci vuole davvero tanto a prenderla Quindi vorrei Che succede? Perché sei zitto? Perché lui credo che abbia bisogno Di metterlo da qualche parte Non gli ho lasciato una cesta vicina Poveretto Quindi Adesso Sistemiamo il problema Allora te la metto qua Così sei felice Schiavetto Schiavetto che fa il ferro Vieni Ti ho messo una cesta Vieni qua Vieni qua Scusami È stata colpa mia Hai ragione Dicevo Ci ho messo un sacco Prendere il ferro in miniera Quindi abbiamo bisogno Assolutamente di mettere Degli schiavetti a lavorare in miniera Quindi è uno dei prossimi obiettivi Però adesso vi faccio vedere A cosa tutto serve il ferro Steph Mi serve un consiglio Si accende la fornaccia Guarda Fere Guarda Fere che bello È molto bello Ok Dimmi Fere Basta così alto Vado ancora più su Io lo vorrei Un blocco più alto Ok Ok Ho indeciso se farlo Però sì Sì giusto per farlo Oh si vede tanto Si vede tanto da qui Ok ok Però devi allargarla anche un po' Sì Tu prova a farla Poi male che vada Sei confusa Ti faccio delle critiche costruttive Dopo va bene Ok ok Allora io dicevo Dato che Fere mi ha interrotto Volevo far vedere Cosa tutto possiamo fare Grazie ai lingotti di ferro Allora noi ci mettiamo I lingotti di ferro Più legno Quindi planks E possiamo fare Sia il piccone Sia l'ascia Ok In questo modo Noi possiamo farmare Molto più in fretta E diciamo I minerali Oh bello Oltre al fatto che ovviamente Quando noi vorremmo Uno schiavetto Che va a minare In miniera Basterà dargli questo piccone E lui andrà Non so però Come si imposta Esattamente Un singolo blocco Dove vanno Però adesso voglio sperimentare Sì dai proviamo Voglio far vedere Se riusciamo a trovarlo E vediamo Cosa ne esce poi Mi ho creato uno in più Per sbaglio Vabbè vabbè Colpa mia Ci provo E' abbastanza complicato Impostare gli schiavetti minatori Eh l'ho notato Non è semplice Cioè se io faccio Tasto destro qua E faccio miner Ok Così è impostato Sì Ce l'ho fatta Sì sì ce l'ho fatta Quindi teoricamente Io adesso Creo uno schiavetto Gli do subito il piccone E lui teoricamente Viene qua in automatico A lavorare E prendere il ferro Però allora gli devo lasciare Subito anche una chest Perché altrimenti Tutte le volte Deve uscire fuori dalla miniera Per darci i materiali Quindi noi facciamo Così Così Aspettate un attimo Lo mettiamo magari Cosa ne so Qua Che non dovrebbe Dar fastidio per il passaggio Stai facendo un sacco di cose E teoricamente In questo modo Adesso gli mandiamo Uno schiavetto A lavorare il ferro E ci passerà il ferro Ok Tramite quella chest Che ho messo lì Vediamo se funziona Spero di sì E nel caso avremo Ufficialmente Il primo schiavetto minatore Hashtag Schiavetto minatore Devo essere veloce Recluta Li corri addosso E teoricamente Gli do il piccone Mi sa che ha funzionato Seguiamolo Fare lo stalker Brutalmente Questo schiavetto Sto sperando Che vada lì Per ora la strada è giusta Ok Dai schiavetto È un po' confuso È un po' confuso Schiavetto No No Che sta Che ha combinato Cosa è successo Che invece che prendere il piccone Ha preso l'arco Ma perché ha preso l'arco Schiavetto dai Cioè per carità Allora L'arco te lo devi mettere in base La seconda guardia Non mi dispiace Fa comodo Ma io volevo lo schiavetto Che mina Allora proviamoci di nuovo Anche se stiamo sprecando un po' troppo cibo Vai andiamo Tieni schiavetto Hai preso il mio piccone Ciao fa Dove sta andando secondo voi Non sono molto svegli Poverini Non sono molto svegli Non riescono a fare nulla Niente Si è messo a lavorare in un campo di grano normale Finita Dai 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 Fere non ti arrabbiare Dai Ho l'arco in questo momento È bellissima È bellissima Fere Grazie Allora Questi blocchi Sono molto grossi Quindi non è che Capito Permettono Troppa creatività Deve essere tutto sempre un po' molto squadrettato Ok Quindi io mi sono arrangiato in questo modo No a me piace Perché da sopra è molto carina E vai a vedere Allora Vorrei fare delle scale da qui Certo No non mi rovinare la torre No non puoi Fere deve salire una sola volta Stai ferma No non puoi Dai Non puoi rovinarmi la torre Deve salire una sola volta lo schiavetto guardia E lo devi lasciare lì poverino Cosa? E lo devi lasciare lì poverino Guarda quegli altri due Vedi che sono incagliati lì per sempre Ma no scendete No non scendono mai Loro non dormono Non mangiano Sono schiavi di guardia Sono schiavi speciali Dice poverini Quelli che li chiama schiavi Capito Vabbè ma sono schiavi Eh fere Non è che li devi trattare male Non è che uno schiavo va trattato male Però è giusto che sia uno schiavo Allora Teoricamente Facendo tutto in questo modo Se io adesso posiziono qui Un bellissimo quiver Lo posiziono Aspetta ne metto due Addirittura Guarda così Sarebbe bello no? Prova Sì Molto bello Ok ho un arco da dare Sì ho un arco da dare Ci provo? Sì provaci Vediamo se il mio esperimento funziona Rimango qui sopra Vedere se sale Rimango qui sopra Allora Dai consolini Potrebbe funzionare Allora Ok Prendi l'arco Prendi l'arco Dimmi che l'hai preso Non andare a dormire Dai ti prego Non andare a dormire Dai no 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 Perché ci devi rovinare Tieni questo Questo è tutto per te amico Poi non ho ragione a dire che sono Amico E se provassimo a fare un fossato Dici E a questo punto sono morti Sì Teoricamente Dovrebbe funzionare Non è che cadono dentro il fossato Magari Sarebbe meglio Non sappiamo se sono molto intelligenti Cioè questa cosa non l'abbiamo mai testata No secondo me Allora Reagiscono come se ci fosse un muro Io dico che cadono nel fossato Scommetti sul cadure Sul cadu Sul cadure Cos'è il cadure Sul cadere Fere Quindi tu scommetti sul cadere Io scommetto sul passare intorno Devo dire una cosa Dimmi Fere Io voglio che i consolini Facciano il dizionario di Steph Fere non ci provare Le leggo di tutte le parole Che lui Nomina Che ovviamente non esistono Perché non si sa Solo lui riesce a capirle Mi sono ingarbugliato Non è che ho inventato una parola Il nostro primo libro Sarà il dizionario di Steph Lo annuncio Lo annuncio Vabbè Vabbè Prendimi in giro Allora Io vi volevo far vedere invece Un'altra novità molto importante Quindi Abbiamo provato a fare questo fossato Vediamo se funziona Abbiamo fatto la nostra bellissima torre Che purtroppo non ha guardie Ma Ci arriveremo Ma non sei riuscito a mettere le guardie No Perché purtroppo Continuano ad andare a lavorare il grano Perché è meno faticoso Perché almeno la notte dormi Ma sei sicuro? Sì Fere Fere Prima o poi ci riusciremo Però Guardate un po' Dall'alto Abbiamo questo bellissimo fossato La prima torre è fatta Quindi è già un bel successo Ne faremo ovviamente un'altra da quella parte Ma abbiamo completato I letti di entrambe le costruzioni Quindi in questo momento Noi abbiamo 20 schiavetti E stanno 10 in una casa 10 nell'altra Quindi È tempo di creare la terza casa Sì Dobbiamo farla assolutamente Per mettere altri 10 schiavetti Nel mentre ho provato anche a fare il primo campo di grano Da 10 per 10 Perché tra le varie cose che hanno giunto nella patch Hanno messo la possibilità di fare finalmente dei campi più grossi Voglio vedere Quindi ho fatto un campo qua gigantesco L'ho allontanato dagli altri Perché gli altri sono tutti simmetrici e bellini E questo è un 10 per 10 Ovviamente intorno mettiamo tutto la pietra Come abbiamo fatto con il resto Per renderlo più carino esteticamente E vedremo un pochettino se funziona Oh ti dirò sono soddisfatta Io ti dico che questa è la prima serie Tra tutte quelle che abbiamo fatto In cui costruiamo recentemente Esatto Non dico bene Ma neanche malissimo Quindi mi sembra Sono per la prima volta Bene ma non benissimo Esatto Per la prima volta sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto È molto carino Perché se tu ti metti qua nella torre E ti guardi tutto il villaggetto È bellino Sono d'accordo Sono molto soddisfatta Ma male come lo facevamo prima Vieni mostro Vieni qui Qui Seguimi Seguimi Mi piace Anche voi seguitemi tutti Se muoio non mi interessa Però li devo far cadere Venite Venite Mi ignorano Mi ignorano Vabbè almeno qui si è al sicuro Della serie Anche una zombie più intelligente di Fere Ma dai Dai scusa Il fossato è bello se ci cadono i nemici dentro Non se rimangono così Guarda Passano perfettamente da quel punto Avevo ragione Consolini Perché poi magari lo scrivete nei commenti C'è un singolo blocco libero Per quella cosa che vi avevo detto Se noi Totalmente Non diamo più la possibilità di passare Risulta fortificata Diciamo il nostro regno E quindi consumiamo più cibo Quindi Siamo obbligati In un modo o nell'altro A tenere almeno una strada viva Quindi Possiamo pensare di renderla ancora più fastidiosa Per gli zombie Quindi ancora più lunga da fare Però guarda Per una strada ci deve essere sempre Non c'è più bisogno che io faccia la guardia C'è tutto qua Dall'alto della mia torre Beh allora Per me la occupo io Ci costa 200 di cibo ogni due giorni Eh lo so Quindi Non vorrei dire ma costa parecchio Anche perché scusami Fammi fare un calcolo matematico Allora Noi abbiamo Ok Delle piantagioni Che sono 4 per 5 Ok perché vuoi fare i calcoli matematici adesso? Qua 20 20 40 60 80 Che noioso 160 2 E 40 320 Quindi noi ci portiamo a casa 320 Per teoricamente 960 Di cibo Ok Ogni due giorni Ne spendiamo solo 200 Sì Molto interessante Se è giusto È good Ok Ok Quindi succo del tuo calcolo Ho pubblicato un video Fere Ok Ottimo Mi ha dato la notifica Eh dai Sono soddisfatto Io direi che ci possiamo fermare così Tra un episodio e l'altro Facciamo la seconda torre Mettiamo uno schiavetto guardia In entrambe le torri E ce la faremo al 100% Costruiamo la terza casetta Degli schiavetti Dato che ne avete già visto due Costruite Quindi La terza la facciamo fuori dal video Certo 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 E anche le altre torri Dobbiamo finire le torri E poi troveremo il modo Di farle salire Esatto E nel prossimo episodio Vedremo un po' cosa fare Però sto iniziando ad essere tentato Di fare il nostro castello E dopodichè La casa dei consolini Quindi probabilmente Punteremo A fare quello Però ancora Vediamo Vediamo cosa ci proponete Nei commenti Se c'è qualcosa Che ci intriga Tanto 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 Quindi Ci fermiamo così Continuate a supportare Questa serie Davvero ci sta piacendo Super 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 tanto Quindi siamo felicissimi Che piace tantissimo Anche a voi Tanti likes Sondaggino Commenti E ci fermiamo così Bene ragazzi Se vi esiste Ciao ciao Sieteci per like Questa è la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao